Quattro 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 Allora c'è uno Adesso È in corridoio Non è adesso Si è lì Uno ai sai Sulla bomba lì che hai davanti A sinistra A sinistra Bella Sei su scale O c'è lei su scale No 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 È lì dietro Sì No 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 è tutta aerea! ho aspettato, ho aspettato mi hanno dato sotto bravo si 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 bravo eeeh ce n'è uno scale bello ce n'è uno scale bello ce n'è uno scale a dentro a dentro rotazione bravo bravo olè bigio cerimento and il cazzo l'è quello del film cazzo l'abbè cazzo l'abbè cazzo l'abbè cazzo l'abbè c'è un buco del drone di pianta vabbè c'entra l'abbè dov'è lì? sinistra sinistra appena L'altra parte, l'altra parte, l'altra parte Da la rotazione, da la rotazione Sì Secondo per andare A4, ultimo stando A4 eliminato, mission successo Full team, attention, the first full team with the Napon